Nel corso degli anni poi mi sono avvicinato, come hai detto tu, anche a certificazioni americane e lì ho riscontrato una maggiore praticità appunto a livello dell'alleamento, cioè tutto è reso estremamente semplice, estremamente immediato e mi sono rispecchiato in questo. A me piace essere appunto diretto con i miei atleti e fare delle proposte veramente semplici, mirate, immediate e che loro possano applicare immediatamente. E secondo me questo è un po' il trucco della preparazione, non bisogna necessariamente andare a cercare l'esercitazione o l'esecuzione circense o complicata, ma... Grazie, ma piuttosto bisogna cercare l'esercizio specifico, l'esercizio più semplice, l'esercizio che con tra virgolette il minor sforzo ti possa dare il maggior risultato. Amo!